eccolo guardate che cavaliere come si si sente a 90 anni con 59 anni di matrimonio come un coglione ma che tazza era guardate mamma mi coloco grazie grazie che bello grazie mamma vai leggi 59 anni che mi cucini 59 anni che mi sopporti io ti amo tanto primo giorno come se fosse il primo giorno questo è vero bacio dai dai un bacetto bacio dai oh che è adesso è contento ecco lì bello sei emozionato è emozionato anche il coccodrillo guarda e beh